Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento dedicato al terreno adriatico 2018. La carovana della corsa dei due mari farà tappa lunedì 12 marzo nella città della fortuna per la numana Fano di 153 chilometri. Oggi parleremo di questa corsa di ciclismo su strada che è una delle più importanti di inizio stagione ma anche una delle più importanti nel mondo. Allora vado subito a presentarvi l'ospite di questa sera il sindaco di Fano Massimo Serie. Buonasera sindaco. Buonasera buonasera a tutti i telespettatori. Avete presentato l'evento proprio nei giorni scorsi durante una conferenza stampa in comune. Sì abbiamo presentato l'evento e l'abbiamo fatto con molto piacere perché come veniva ricordato la Tirreno Adriatico è una delle due classiche più importanti prima del Giro d'Italia ma ad un alto valore sportivo dove ci sono tutti i più grandi campioni del mondo del ciclismo. Quindi una festa di sport straordinaria che vede la partecipazione di tantissime persone quindi è uno di quegli eventi sportivi che fanno onore anche ad una città che la ospita. Quindi Fano torna ad ospitare una grande gara di ciclismo dopo sei anni proprio perché nel 2012 era stata la volta della quinta tappa del Giro d'Italia. L'avete fortemente voluta Fano. Sì ma direi anche la prima volta in assoluto che Fano ospita la Tirreno Adriatico non era mai successo è una tappa molto ambita tant'è che insomma non dico che abbiamo combattuto però insomma ci abbiamo messo del nostro per conquistare questo arrivo. Un arrivo che non è banale perché non è soltanto il traguardo ma è un percorso cittadino quindi che vedrà tante telecamere fisse sulla nostra città per quasi due ore. Andiamo prima di procedere a vedere tutte le vie e le strade interessate. Dunque il circuito cittadino di 12,8 chilometri si ripeterà due volte con arrivo in via le Gramsci e un rettilineo finale di 350 metri. Come vediamo però da questo cartello la carovana ciclistica proveniente dalla strada provinciale 92 procederà per via Bellandra, via Soncino, via Pertini, via Roma, via le Gramsci, via le 12 settembre e poi via Pisacane, via le Picino, via Fraghetto, via delle Querce, via le Mattei, strada comunale Bretella, via Papiria, strada comunale Petruccia e via Campanella. Poi nel corso delle prossime puntate vi entreremo nel dettaglio per cui vi faremo avere molte più informazioni e dettagliate. Sindaco Fano dovrà prepararsi dunque a questo evento a risonanza mondiale. Sì, come si evince dalle vie che ha appena presentato è veramente un circuito cittadino. Non dimentichiamo che ci sono 184 paesi collegati con Fano, fra dirette, televisive, differite e servizi. Quindi un'occasione straordinaria anche di promozione della nostra città perché ci saranno servizi e immagini della Fano anche dall'alto sulle caratteristiche, i valori e le bellezze della nostra città. Quindi sono due elementi straordinari, un elemento di promozione molto forte e poi come dicevo un evento sportivo di grande valore e diventa anche un regalo per tutti gli appassionati di ciclismo che fanno, vanta di avere tantissimi appassionati, praticanti e quindi ripeto è anche una bella cosa per la nostra città. Potrà creare anche un bel indotto anche economico per abbergatori, ristoratori? Sì perché verrà tantissima gente anche da fuori, non ci saranno soltanto fanesi proprio per l'importanza e il valore che questa tappa ha che non dimentichiamo è la penultima ma l'ultima è una cronometro di 14 chilometri quindi non fa la differenza per cui è molto probabile che diventi la nostra la tappa più importante dove si deciderà anche il vincitore di tutto la Tirreno Adriatico. È anche un valore emotivo forte perché è dedicata a Scarponi, un ciclista, un professionista marchigiano quindi ha tanti elementi che rendono molto importante questa tappa la Numana Fano. Come siete entrati in contatto con gli organizzatori? Quando avete saputo che avrebbe fatto appunto Tappa Fano? Beh intanto essendo coinvolge il Tirreno Adriatico anche le regioni, la Toscana, l'Umbria e le Marche e quindi con la regione ci siamo interfacciati e qui devo ringraziare l'assessore Moreno Pieroni, assessore al turismo della regione Marche che insieme a me ha voluto fortemente che questa tappa avesse come arrivo la città di Fano e vi confesso che c'erano altri sindaci che si erano candidati per ospitarla. Quindi insomma è andata bene questa volta? Sì, è stato un bel risultato proprio perché porta a valore, porta un valore importante con tante ricadute, un indotto alla città. Parliamo invece del coinvolgimento che ci sarà per questa città? Sì, essendo un evento straordinario con un'attenzione straordinaria e importante è che tutti quanti facciamo qualcosa per renderla ancora più bella, valorizzando le nostre eccellenze, valorizzando la nostra creatività e la nostra simpatia perché quando abbiamo voglia ci rendiamo anche simpatici. Quindi a cominciare dal nostro centro storico, dai nostri negozianti che so che hanno pensato di abbellire le proprie vetrine. L'ente carnevalesca farà la sua parte portando una rappresentanza del carnevale con dei pupi, con delle presenze visive significative e poi c'è tutto il mondo dello sport, del ciclismo che sarà presente nelle varie forme. Quindi poi anche in queste giornate stiamo ragionando ancora per pensare anche altre iniziative che possono rendere più colorata, più gioiosa e più attrattiva la città per tutti gli ospiti che verranno ma anche per la manifestazione nel suo insieme. Quindi darete successivamente delle comunicazioni anche agli esercenti del centro storico? Certo, ovviamente queste cose cerchiamo di condividerle il più possibile perché se c'è conoscenza, condivisione, tutto è più facile e tutto è più bello, lasciatemelo dire. Come diceva lei prima, questo evento sarà collegato con 184 paesi di tutto il mondo perché sono stati appunto tanti coloro che hanno acquisito i diritti di trasmissione e quindi diffonderanno le immagini. Una bellissima visibilità. È una visibilità straordinaria, poche volte capita di essere al centro del mondo, sportivo in questo caso, però avere 184 paesi significa che quasi tutti i paesi del mondo si collegano e voi immaginate quante milioni di persone vedranno le immagini di Fano. Come sempre i cittadini potranno avere maggiori informazioni anche sul web e quindi andando proprio a vedere tutte le informazioni sul sito del comune di Fano? Sicuramente, quindi sia attraverso l'assessorato allo sport, sia attraverso i canali ufficiali dell'amministrazione comunale, attraverso la pagina facebook del sindaco, ma attraverso Fano TV, attraverso tutti gli organi di informazione, noi diffonderemo tutte le notizie utili per i cittadini perché dobbiamo essere anche consapevoli che un evento come questo, che coinvolge tutta la città, crea anche qualche disagio, magari per la circolazione perché avremo individuato anche percorsi alternativi, per cui l'invito è quello di seguire tutte le informazioni, di viverlo anche con lo spirito giusto come deve essere un evento sportivo. Grazie sindaco per essere stato con noi, buon proseguimento di serata. Grazie e tutti alla Tireno Adriatico ovviamente. Grazie sindaco, arrivederci a tutti quanti, a domani.